più che uno spettacolo veramente stava dicendo adesso è un messaggio quello che voi ci avete portato io devo dire che mi sono molto emozionato l'altra cosa che veramente mi ha fatto tantissimo piacere vedere veramente tanti giovani uno spettacolo di giovani questo da speranza una delle cose che veramente mi ha fatto più per abbrividire se vogliamo dire è stato il pezzo coi bambini no pensare che voglio dire all'ucraina pensare alla palestina pensare a cosa succede questi bambini veramente mi ha mi ha scosso ecco quindi penso che questa sera abbiamo ricevuto veramente un messaggio di speranza veramente tanta 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 perché soprattutto perché arriva dai giovani e penso che ne abbiamo proprio bisogno uno spettacolo che unisce il messaggio profondo di don zeno incarnato nell'oggi con modalità espressive con una narrativa che è molto moderna e gli ingredienti di sempre sono i bambini sono i ragazzi come ha detto il sindaco i ragazzi che lanciano un messaggio di speranza e che è l'incarnazione di quello che ha trasmesso don zeno cioè di di essere fratelli veramente se c'è solo un povero quel povero ci giudicherà questo messaggio forte una denuncia forte di questo profeta del novecento a lungo inascoltato e che invece deve essere veramente riscoperto da tutti sono felice è stata una serata meravigliosa lo spettacolo più bello che abbia mai visto tutta la mia vita ci ha dato il messaggio più bello che davvero la fraternità e il senso di tutto siete stati bravissimi il vangelo non con le parole ma con i fatti nella verità un'emozione senza fine dico che sono le cose belle della mia generazione che la mia generazione ha dimenticato e adesso le ho rivissute tutte queste cose bellissime questi semi di speranza che ci sono stati lasciati questa sera dobbiamo veramente avere la la costanza e dobbiamo prenderci l'impegno di farli crescere questi semi e la cosa più bella è vedere tutti questi bambini e vedere i loro sguardi sono sguardi di una serenità che non esiste più e che questo però è veramente la da speranza da amore e ci richiama a veramente pensare sempre di più agli altri e molto meno noi stessi vedere così tanti giovani porta gioia e speranza vederli tutti sorridenti all'unisono è stata veramente uno spettacolo che ha portato tanta gioia grande grandissimo emozionante piaciuto un bel messaggio di speranza anche gioia vita giovinezza questi sono le gli elementi che ho colto da questo spettacolo e che danno tanta energia e fanno credere che veramente la fraternità sia la carta vincente come ha detto don zeno grazie solo meraviglioso guarda io non ho altre parole è stato un bellissimo spettacolo devo dire e anche a me ha colpito il veramente il messaggio e fa pensare ed è giusto che ogni tanto ci siano questi queste provocazioni perché oggi provocazioni si intende altro invece queste sono quelle che toccano toccano l'animo per cui una bella serata grazie